Questa mattina nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di sette persone, di cui due in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno dell'obbligo di firma, di età compresa tra i 21 e 32 anni, residenti in Casandrino, ritenuti responsabili a vero titolo dei reati di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, furto e distorsione. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano tra settembre e dicembre 2019, attraverso l'installazione di telecamere nascoste e di intercettazioni telefoniche, hanno consentito, anche grazie a numerosi servizi di osservazione e pedinamento, di verificare una regolare e costante attività di spaccio operata dagli odierni indagati. In particolare sono stati individuati e documentati numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente, acisce e cocaina, in due piazze di spaccio nel comune di Casandrino. L'attività investigativa ha permesso di raccogliere altresì plurimi elementi iniziari, confermati dal GIP che ha emesso il provvedimento in relazione alle condotte poste in essere dagli indagati per i reati loro ascritti. In particolare, in un'occasione rivolgevano gravi minacce nei confronti di un acquirente che non era riuscito a saldare il prezzo per l'acquisto della sostanza stupefacente. Perpetravano presso un'agenzia di scommesse nel comune di Casandrino un furto aggravato della montagna di Euro 7600.